Possiamo partire con i primi contributi, quindi Erasmo, il professor Carrera e il professor Zappino e poi Massimo Comparini che sarà da remoto. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie al presidente Ingegner Leone e Maria Cristina per aver organizzato a Torino questo evento, quindi nel vostro giro CTNA e grazie a professor Sorli che ha invitato a fare una presentazione sul tema dell'additive manufacturing nello spazio. Al Politecnico di Torino abbiamo un corso sull'additive manufacturing per gli allievi ingegneri aerospaziali che è tenuto dal professor Zappino e quindi ho chiesto a lui di aiutarmi a fare questa presentazione. Quindi io farò una parte un pochino generale e poi tornerò alla fine per qualche conclusione anche per dettagliare un po' alcune delle cose che ha detto il rettore all'inizio nella sua presentazione. Dunque, dico solo un po' in generale, il tema dell'additive manufacturing ovviamente è un tema che riguarda molto le tecnologie, adesso qui abbiamo anche il direttore del nostro dipartimento gestionale, quindi non facciamo un'invasione di campo, ma sono un po' temi, come ha detto anche un po' Massimo, che mettere delle pareti è sempre più difficile quando si cambiano, cambiano le regole del gioco, cambiano i prodotti, cambiano il modo di costruirli. Dobbiamo, diciamo, cercare di lavorare insieme, un po' togliere quelle pareti che abbiamo sempre avuto, fra l'altro a proposito di questo, al Politecnico di Torino ci tengo a sottolineare che da quest'anno è attivo un corso di ingegneria, un corso, diciamo, una specializzazione sulla spesa economica fatto proprio nell'ambito dell'ingegneria gestionale, proprio per dire che è un'attività che il Politecnico si è incaricata di farlo per gli ingegneri, per la parte gestionale, mentre, per esempio, in altre università queste cose sono sfuggite all'ingegneria e sono andate in altri campi, quindi è stata un'operazione, diciamo, molto, diciamo, virtuosa, credo, che ha messo in campo il nostro rettore andando a fare questa operazione, insomma, appunto, senza barriere. Per quanto riguarda il tema dell'additive manufacturing nello spazio, ovviamente è un tema che fa sognare, tutti immaginiamo che poter costruire, poter fare delle cose che di solito, diciamo, chi si occupa di spazio, chi è appassionato di spazio immagina, avere una macchina che costruisca delle cose da un'altra parte è fantastico, eccezionale. Allora, come andiamo a declinare questa parte di additive manufacturing? Cioè, nello spazio noi abbiamo sostanzialmente tre grandi temi, una è l'esplorazione, l'altra sono le missioni scientifiche, quindi abbiamo la parte, l'esplorazione per noi è la parte un pochino più vicina, cioè più possibile, tipicamente la Luna, Marte. Poi abbiamo una parte, un po' di missioni scientifiche, quindi che vanno un pochino più lontano e queste, e poi abbiamo la parte di, abbiamo scoperto che lo spazio può essere usato, da qui spese economy anche, può essere usato per migliorare la vita sulla terra, per fare un po', per creare delle attività che rendono la vita sulla terra, diciamo, sostenibile, che osservino, che ci aiutino a controllare tante cose, a evitare disastri, eccetera, eccetera. Voi riprenderò questo discorso un pochino alla fine. In quali di questi temi si inserisce la parte di additive manufacturing nello spazio? Beh, si inserisce sicuramente nell'esplorazione, come dicevo prima, se immaginiamo di costruire qualcosa su altri pianeti o satelliti, immagino, sapete benissimo, ci sono dei progetti in essere, è partito proprio qualche giorno fa la prima missione Artemis senza uomo, che, diciamo, esplorerà la possibilità per, nei prossimi mesi, di mandare degli astronauti con lo stesso sistema, e lo scopo è quello di andare a costruire qualcosa sulla Lua. E quindi lì, senz'altro, l'idea di utilizzare additive manufacturing è fondamentale. Ma anche, abbiamo tutta una serie di problemi attorno alla Terra, perché attorno alla Terra, sapete, ci sono altre questioni relative alla sostenibilità, per esempio di Bri, e anche qui l'additive manufacturing può giocare un ruolo importante. Ovviamente sarebbe un sogno averlo anche su oggetti scientifici che mandiamo lontano dalla Terra, magari per migliorarne l'uso, ma questa è una cosa un pochino più complessa. Su questi due temi adesso vi parlerà appunto il mio collega Zappino, e io poi tornerò di nuovo a dire qualcosa nelle conclusioni finali. Buongiorno a tutti, mi ringrazio anch'io per l'invito, per questa possibilità, e per darci in qualche modo spazio per condividere un po' quello che è la nostra visione dal punto di vista delle manufatture nello spazio, è anche un po' quello che facciamo al Politecnico. Come appunto diceva il professor Carrera, ci aspettano queste sfide, ecco, nel futuro, pensano di poter esplorare e sfruttare lo spazio, sicuramente i temi della sostenibilità, della responsabilità sono centrali. Per poter affrontare queste sfide sicuramente abbiamo bisogno di un cambio, di un po' dei paradigmi che abbiamo utilizzato fino ad oggi, e alcuni di questi sono legati al modo in cui noi in qualche modo andiamo a utilizzare lo spazio. Innanzitutto l'accesso, l'accesso allo spazio come ben sapete è legato all'utilizzo di lanciatori, che in qualche modo fanno un po' da collo di bottiglia su quello che è la nostra attività in ambito spaziale, ecco, perché sicuramente abbiamo dei grossi limiti sui volumi che sono legati appunto alle dimensioni del fairing appunto dei lanciatori che abbiamo a disposizione, abbiamo limiti di massa, che in qualche modo sono legati alle performance dei lanciatori stessi, e poi abbiamo altri limiti dal punto di vista del design, perché effettivamente noi andiamo a disegnare le strutture spaziali non tanto per sopravvivere alla vita nello spazio, quanto per sopravvivere al lancio, e questo ci obbliga in qualche modo a fare un design non per l'utilizzo finale, ma in qualche modo per il viaggio che le porterà poi nella loro destinazione appunto operativa. Sicuramente i lunghi tempi di sviluppo, perché effettivamente per avere poi un oggetto nello spazio abbiamo bisogno di sviluppare un prodotto per parecchi anni, aspettare la possibilità di lanciarlo e quant'altro, quindi tempi decisamente che non coincidono con le necessità che abbiamo visto in qualche modo nella slide precedente. Abbiamo poi altre problematiche, se pensiamo in particolare all'esplorazione legata alla dipendenza con la Terra, quindi noi siamo abituati in qualche modo a portare o a creare sulla Terra tutto quello che necessita in qualche modo per una missione, e in qualche modo spedirlo nello stesso momento, in momenti successivi, in modo da in qualche modo poter sviluppare la missione stessa. Ecco, questo sicuramente aumenta i costi, perché in qualche modo tutto deve essere lanciato, sappiamo che il lancio è una parte particolarmente onerosa, è decisamente poco pratico per missioni di lunga durata o a lunghe distanze, ecco, quindi non è possibile pensare alla colonizzazione o all'esplorazione di pianeti lontani a partire da Marte, pensando di doversi portare tutto quanto da casa. Ecco, da questo punto di vista, che va un po' anche a ricoprire quello che è la logistica, abbiamo imparato molto dalla stazione spaziale, questi sono dati forniti dalla NASA, noi sappiamo che a bordo della stazione spaziale al momento abbiamo 13 tonnellate di parti di ricambio, pezzi di ricambio, che probabilmente nel 95% di questa non verrà utilizzata, quindi abbiamo all'incirca 12 tonnellate o qualcosa in più di materiale che abbiamo dovuto creare, spedire e mantenere sulla stazione spaziale e non utilizzeremo, tutti gli anni continuiamo a mandare materiali di supporto, circa 3 tonnellate per anno, e in qualche modo con l'incognita che è logicamente la richiesta di tutto questo materiale, perché non sappiamo quale componente potrà servirci, quale incidente o quale in qualche modo imprevisto potrà presentarsi, ma abbiamo anche l'incognita che probabilmente potrebbe accadere qualcosa per cui non abbiamo una parte di ricambio a disposizione, che purtroppo non è possibile avere tutto a disposizione, quindi un numero che non c'è, abbiamo ancora 17 tonnellate di materiale a terra pronto per essere spedito in caso di emergenza, e questo si vede che dal punto di vista logistico assolutamente non va a soddisfare poi quelli che sono i requisiti delle future missioni spaziali. Ecco perché in questo ambito la possibilità di andare a fare un manufacturing al di fuori della Terra, ecco, non per forza solo nello spazio, ma anche su altri pianeti, quindi andando poi a cambiare quelle che sono le condizioni al contorno, diventa estremamente interessante, ecco, e le missioni potranno trarne un vantaggio enorme. E da questo punto di vista sicuramente l'additive manufacturing è uno di quei processi che si candida a essere probabilmente uno dei più, in qualche modo, uno dei più adatti, ecco, per questo tipo di applicazione. Sicuramente questo filone, diciamo, di ricerca e di applicazioni non ha solo impatto su quello che sarà l'esplorazione, l'utilizzo in orbita, ma come vedremo potrà anche avere poi una ricaduta, diciamo, per applicazioni terrestre, vedremo qualche dettaglio successivamente, ecco. Qual è l'impatto che ci aspettiamo, ecco, da questo tipo di attività? Beh, sicuramente c'è tutta la parte appunto del supporto alle missioni, con la possibilità di stampare al momento le parti di ricambio che possono essere necessarie e quindi dare una certa indipendenza dal punto di vista anche della manutenzione e a future missioni. Un secondo tema decisamente interessante, legato un po' alla sostenibilità, è la parte del riciclo e, se vogliamo, anche la parte di responsabilità, quindi la possibilità di utilizzare componenti dismessi per poterli eventualmente in qualche modo impiegare per la costruzione di nuovi componenti, in questo caso, ad esempio, le materie plastiche o i polimeri si prestano particolarmente bene per poter essere utilizzati e riutilizzati attraverso lo stampaggio 3D. Abbiamo poi sicuramente la possibilità di andare a pensare strutture al di fuori di quelle che sono le dimensioni classiche che possiamo lanciare in orbita e quindi poter pensare a strutture decisamente di dimensioni maggiori e strutture ottimizzate per l'utilizzo che effettivamente dovranno fare, ecco, quindi non per il lanciatore che dovrà essere utilizzato, ma per la missione che dovranno svolgere nello spazio, che tipicamente ha condizioni a contorno estremamente differenti, ecco. E poi, sicuramente, più legato all'esplorazione, la possibilità di utilizzare materiale che troviamo in loco, quindi l'in-symptom manufacturing, la possibilità di utilizzare, ad esempio, la regolite, ecco, uno dei candidati per la realizzazione di infrastrutture, ad esempio, sul suolo lunare. Qual è invece l'impatto, diciamo, downstream, quindi cosa torna sulla Terra? Beh, sicuramente l'ambiente spaziale ci offre delle condizioni uniche, la microgravità che può essere sfruttata, non l'abbiamo scoperta noi ora, non l'abbiamo scoperta nello spazio, già nel 1700 venivano creati i proiettili di piombo, facendoli cadere da una drop tower, e nella caduta al piombo fuso vivevano esperienze, diciamo, di microgravità per alcuni istanti, e la tensione superficiale dava una forma perfettamente sperica ai proiettili, che poi solidificavano e atterravano con la loro forma in qualche modo finale. Questo sicuramente è stata un'applicazione iniziale, ma sappiamo che la microgravità ci offre una serie di vantaggi, ad esempio minimizzare la convenzione termica, promuovere in qualche modo la distribuzione uniforme delle particelle, non richiedere contenitori per contenere magari un materiale da poi formare, ecco. E questo sicuramente ci offrerà la possibilità di creare materiali, diciamo, impossibili da realizzare sulla Terra, che in qualche modo invece potranno essere realizzati eventualmente nello spazio, e poi essere riportati a Terra, appunto, andando un po' anche a promuovere quella che poi è un po' tutto l'ambito della space economy, che potrà avere vantaggio da queste applicazioni. Difficoltà, ecco, di questo tipo di manufacturing? Beh, sicuramente il primo aspetto è che noi andiamo a creare il materiale nello stesso momento in cui creiamo una struttura, e questo vuol dire che in qualche modo dobbiamo controllare non solo in qualche modo la creazione della struttura, ma dobbiamo garantire le condizioni nelle quali il materiale andrà a assumere le proprietà che noi vogliamo, e questo è estremamente complicato. In qualche modo abbiamo già un'esperienza in questo campo sulla Terra, se pensiamo ai materiali compositi succede un po' la stessa cosa, perché noi andiamo in qualche modo a creare la struttura nello stesso momento in cui andiamo a polimerizzare un componente, quindi già in questo caso abbiamo questa coincidenza, ecco, di fasi, diciamo, della produzione. Conduzioni fisiche estremamente differenti da quelle sulla Terra, non solo la gravità, ma l'atmosfera, radiazioni e così via. Materiali, soprattutto nella parte di ciclo o di insito manufacturing, molto variabili nelle proprietà, quindi non possiamo avere una costanza nelle proprietà come quelle dei materiali che utilizziamo sulla Terra. E poi, ecco, importante, un punto su cui mi soffermerò, la mancanza di piattaforme sperimentali. È molto difficile poter sviluppare il processo, diciamo, nello spazio, dovremmo farlo sulla Terra in condizioni completamente differenti, e qui probabilmente l'aspetto virtuale giocherà un ruolo fondamentale per poter sviluppare un processo che sia poi efficace. Alcune, diciamo, commenti un po' sulle condizioni al contorno, vado un po' a dettagliare qualcosa. Il fatto di poter stampare nello spazio non è per forza una difficoltà, ci offre anche dell'opportunità. In primis, ad esempio, il diverso comportamento del calore, se andiamo a stampare in un ambiente in cui non abbiamo convezione termica, logicamente abbiamo una differente smaltimento del calore della componente, spesso su parti polimeriche, che poi in qualche modo è la prima tecnologia che è stata esportata nello spazio, questo migliora le prestazioni, perché ad esempio nel PIC va ad aumentare il livello di cristallinità e va a migliorare il legame tra il materiale che viene depositato, e quindi è un vantaggio. Abbiamo la microgravità, che ad esempio potrebbe essere un problema per tutto quello che è la stampa magari di polveri, perché non aderiscono al letto, ma ad esempio con sistemi di pompaggio di aria, diciamo, dal basso, può in qualche modo mantenere la polvere attaccata al letto, quindi può essere superato. Nel stesso campo, ecco, il vuoto può essere un vantaggio invece, perché mentre quando andiamo a stampare con una tecnologia laser abbiamo bisogno di atmosfere protette, ecco, se l'atmosfera non c'è, ecco, questo evita di dover creare un ambiente in qualche modo protetto per lo stampaggio. E quindi sei visto anche un po' nella tabella sotto, ecco, senza andare nel dettaglio, ma che effettivamente trasportare il processo che abbiamo sulla Terra nello spazio può presentare dei vantaggi e alcune, ad esempio, delle proprietà meccaniche che abbiamo ottenuto dei componenti stampati sulla stazione spaziale effettivamente sono migliorate. Invece, ecco, dal punto di vista del virtual manufacturing, sicuramente la mancanza di piattaforme sperimentali ci richiede di sviluppare degli ambienti virtuali per poter sviluppare i nostri processi e questo è particolarmente importante anche nell'ambiente spaziale, perché quando andiamo a produrre un componente dobbiamo essere piuttosto sicuri che il componente in qualche modo abbia le proprietà che vogliamo. Diciamo che la failure di un componente potrebbe essere particolarmente pericolosa, soprattutto per missioni umani a bordo, quindi la necessità di avere il pieno controllo del processo essenziale e questo ci promette sicuramente quello di la possibilità di ridurre quelle che sono le campagne sperimentali, potendo sostituirle in parte con esperienze virtuali, andare a correlare quello che è l'ambiente di produzione con le proprietà finali del componente, magari implementare delle soluzioni di design innovative e effettivamente andare ad ottimizzare il processo di manufacturing in modo più completo. I modelli che abbiamo attualmente non soddisfano del tutto questi requisiti, noi sappiamo che per riuscire a fare un'analisi di questo tipo abbiamo bisogno di modelli sicuramente ad alta efficienza numerica, perché le incognite sono molte, modelli multifisici, multiscala, dobbiamo tenere in conto non solo dell'aspetto meccanico, ma dell'aspetto chimico, dell'aspetto termico, dell'aspetto, diciamo dei più diversi aspetti in qualche modo anche non solo diciamo meccanica dei soliti, ma effettivamente anche magari campi differenti, multiscala, non solo appunto la scala macro, ma la microscala dei componenti, eventualmente fino alla scala atomica, in alcuni casi necessario, descrivere bene le interfacce, non linearità, avere logicamente un'accuratezza elevata, e sviluppare anche modelli magari guidati un po' dai dati, che sono quelli che ultimamente vanno più di moda, se diciamo, quindi la possibilità di utilizzare i dati a disposizione per creare dei modelli surrogati che possono supportarci nelle nostre scelte. Questo è un po' quello di cui ci copriamo al Politecnico, se vogliamo in particolare il gruppo guidato dal professor Carrera, dove appunto andiamo a creare questo tipo di modelli e vi faccio vedere un po' quello che possiamo fare, ecco sicuramente c'è un aspetto multiscala, quindi la possibilità, logicamente questi sono modelli al momento sviluppati maggiormente per materiali compositi, ma che facilmente possono essere poi esportati a materiali di natura differente, quindi la possibilità di in qualche modo andare a variare tra le diverse scale, andando a utilizzare processi di in qualche modo omogenizzazione che ci permettono di risolvere il problema a un livello più alto, con un minor grado di incognite, e poi traslare le informazioni ai livelli più bassi per andare a vedere cosa succede alle scale più basse, che solitamente sono quelli responsabili delle failure, o del fallimento di qualche struttura, e quindi questo è sicuramente un ambito importante, non solo dal punto di vista meccanico, ma anche per le proprietà termiche, igroscopiche e così via. La necessità di sviluppare, l'abbiamo definita, defect tolerant structure, quindi noi sappiamo che il processo di manifattura introduce per forza dei difetti, non possiamo evitarli, dobbiamo in qualche modo cercare di considerarli, diciamo che in ambito aeronautico siamo stati abituati, almeno in passato, con le strutture metalliche, a lavorare in questo senso, perché con il damage tolerance, in qualche modo, abbiamo sempre considerato i difetti, li abbiamo un po' abbandonati per i materiali compositi, perché fondamentalmente non eravamo in grado di considerarli, ecco, dobbiamo un po' recuperare la possibilità di avere delle proprietà variabili, e vedere l'impatto che hanno sulle performance, ecco, quindi sia l'incertezza magari nel processo di manifattura, sia i difetti che possono in qualche modo presentarsi, ad esempio la presenza di vuoti, che andranno a creare singolarità magari di stress a livello microscopico, e creeranno magari un fallimento o delle sigma, diciamo delle tensioni limite più basse, ecco, perché gli effetti diciamo locali andranno a governare poi quello che sarà la rottura del componente. Abbiamo poi la possibilità di magari andare a utilizzare le tecnologie di stampa 3D per materiali diciamo non classici o non solamente polimedici o solamente metallici. Lo sviluppo di stampa 3D di fibre continue è sicuramente un aspetto interessante perché ci permette di in qualche modo affiancare la resistenza delle fibre di carbonio con la facilità, la relativa facilità di stampa di materiali polimerici, e in questo caso, ecco, si è visto che la possibilità di poter andare a stampare questo tipo di materiale è estremamente interessante dal punto di vista meccanico perché possiamo in qualche modo andare a ottimizzare anche la deposizione dei rinforzi, ma anche dal punto di vista, diciamo, multifisico, alcune di queste fibre o questi materiali possono avere capacità in altri campi, ad esempio le fibre di carbonio conducono l'elettricità, e in qualche modo possiamo andarle a disporre in modo da utilizzarle anche come sensori per avere in qualche modo un'applicazione non solo di strutturale, ma anche in altri campi, e quindi avere un feedback sullo stato di tensione o di deformazione della struttura. Per concludere, sicuramente l'Additive Manufacturing nello spazio è coperto da molti progetti di ricerca, in particolar modo sicuramente la NASA dal 2014 con l'Espace Manufacturing, la DARPA e l'ESA nello stesso modo, e da molte iniziative anche nazionali sia in Europa sia in America ma anche in Asia e sicuramente sia in Cina e in India. Anche l'Italia può fare la sua parte, qui lascio di nuovo la parola al professor Carrera e vi ringrazio. Dunque, come ha già detto il mio rettore, ai TRL Bassi c'è un'attività molto importante per l'Italia che è quella che era poi nel partenariato esteso quindici e il Politecnico ha avuto il piacere di essere chiamato a coordinare questa attività che comprende un certo numero di temi e ovviamente la parte di cui ha parlato adesso il collega Zappino è fortemente dentro il progetto con quella di cui si parlerà anche nel pomeriggio del Digital Twin anche perché mi sembra chiaro che da quello che ha detto Zappino scollegare le due cose è abbastanza impossibile mi fa anche piacere diciamo ricordare che su questo abbiamo anche collaborato con il CTNA abbiamo raggiunto un po' anche per un pochino diciamo lo statuto del CTNA eccetera eccetera quindi non poteva essere direttamente coinvolto ma il CTNA sarà sicuramente coinvolto in un comitato di indirizzamento e di valutazione che affiancherà il partenariato nello sviluppo delle attività dei prossimi dei prossimi tre anni e poi mi piace ancora ricordare io sono anche presidente dell'associazione italiana di aeronautica e astronautica e abbiamo un appuntamento importante in Italia nel 2024 anche qui supportati da Leonardo e da e dall'agenzia spaziale italiana e quindi anche il CTNA sicuramente non ci farà mancare il proprio supporto questa sarà un'occasione abbastanza importante avremo circa diecimila persone a Milano non solo accademici studenti imprenditori politici diciamo responsabili delle agenzie spaziali e quindi lì sarà anche un'occasione per far vedere quello che riusciamo a fare in Italia nei prossimi due anni e quindi diciamo approfitto anche per questo spot grazie a tutti grazie grazie Erasmo e grazie Enrico molto della presentazione direi molto interessante e molto centrata non so se vi siete presi i libretti ce l'hai preso? e grazie quindi di quanto avete fatto io direi Massimo Comparini io ci sono eh Massimo sentite? sentite? io ci sono Giorgio Comparini ovviamente ben conosciuto credo a tutti amministratore legato di Thales ecco mi sentite? benissimo ciao buongiorno ok no no non mi dare i carichi che non ho però Massimo sono amministratore legato di Thales Arena Space Italia allora buongiorno a tutti e mi dispiace non essere con voi ma eh purtroppo un paio di appuntamenti contemporanei non mi hanno consentito di essere fisicamente a Torino e l'argomento è penso sia particolarmente interessante e il mio intervento dopo quello di del professor Carrera di Erasmo che saluto penso che possa completare un po' la visione che abbiamo eh su questo tema su questo tema importante della costruzione di infrastrutture in orbita e quindi vado a condividere lo schermo vediamo se ci riesco ecco eh Massimo lo vedete lo vedete a schermo intero lo vedete sì perfettamente bene se lo metto in presentazione allora lo metto in presentazione ok magari forse non è a schermo intero ma lo vedete così lo vedete bene così va bene ok bene allora diciamo nella mia relazione farò una panoramica effettivamente di come alcune degli aspetti che sono stati appena introdotti e certamente il la manifattura in orbita l'addit di manifattori e in genere la costruzione di infrastrutture in orbita sia uno degli elementi fondamentali della proiezione che dall'orbita bassa terrestre ci porta anche all'esplorazione planetaria e quindi darò esempi di quello che facciamo esempi sostanzialmente basati su quello che facciamo in Italia che quindi mi permetto di integrare quanto è stato detto non solo può avere un ruolo ma ha un ruolo e avrà un ruolo particolarmente rilevante e questo lo dico anche alla luce delle risultanze di un evento importante che c'è stato negli ultimi due giorni ovvero la conferenza ministeriale che ha certamente ribadito il ruolo molto molto importante e trainante in settore come quello dell'esplorazione dell'Italia allora un brevissimo cenno per inquadrare come anche questa parte questo dominio delle attività spaziali si inserisca in una evoluzione di lungo periodo sappiamo che lo spazio diciamo e qui ci sono immagini iconiche dalla prima forma sulla luna fino ai lanciatori che hanno portato e lanciarono il modulo orbitale qualche decade fa peraltro in questi giorni come appena è stato ricordato precedentemente in questi giorni abbiamo il primo di una nuova serie di moduli orbitali ovvero la capsula Orion che sta orbitando attorno alla luna perché è lanciata pochi giorni fa da Cap Canaveral con la missione Artemis 1 poi ci ritornerò un attimo ma c'è molta Italia perché tutto il modulo di servizio è stato sviluppato in Europa con un grandissimo contributo nostro allora è evidente che negli ultimi decenni da quando queste immagini sono state scattate ad oggi c'è stata una forte evoluzione delle attività delle attività spaziali che cogliendo anche gli sviluppi tecnologici di missioni scientifiche di frontiera qui vedete un immaginino in alto della Cassini Huygens una missione che è andata a nuove unità astronomiche ma missioni scientifiche anche che ci hanno consentito oggi di immaginare ad esempio un ritorno sulla luna beh come è stato anche detto oggi lo spazio è anche molto altro è anche molti servizi abilitati dalle infrastrutture ad esempio per costruire un pianeta sostenibile la terra e quindi siamo entrati in una dimensione diversa in una dimensione nella quale le infrastrutture devono necessariamente essere immaginate anche rispetto ai servizi che erocheranno e questi servizi non necessariamente nella prospettiva di lungo termine sono servizi per la terra ma sono anche servizi a sostegno di una di una evoluzione che è quella dell'esplorazione e ad esempio perché no quella di poter capire se potremo mai vivere stabilmente ed operare in un contesto diverso da quello del pianeta dove dove siamo e quindi qui e lo dico solo per inquadrare quanto certi ragionamenti tecnologici siano anche diciamo abbiano connessione anche con altre visioni geopolitiche ma anche ma anche veramente di lunga prospettiva per l'umanità cioè saremo mai un'umanità multiplanetaria qual è il vero orizzonte temporale perché necessariamente questo si collega anche a quanto certe tecnologie delle quali dibattiamo oggi potranno abilitare questa questa evoluzione e allora anche qui ci dovremmo domandare ci domandiamo ci stiamo già domandando se ad esempio l'esplorazione umana dello spazio compreso la capacità dell'uomo di operare nell'orbita bassa terrestre eh ha solo un profilo scientifico o avere o ha anche già una dimensione economica e infine l'operare nell'orbita bassa terrestre e quindi eh avere questa prima dimensione spaziale ma anche tecnologica architetturale come terreno di lavoro abiliterà e come sarà utile diciamo per abilitare frontiere successive e qua come tecnologie quali quelle robotiche qual è appunto quella dell'addi manufatturi della capacità di costruire in orbita e non portare tutto dalla terra e infine dell'intelligenza artificiale potranno contribuire e dico questo perché si vede nell'immagine in alto sostanzialmente operare in orbita operare e costruire sistemi spaziali nell'orbita bassa terrestre sulla luna e poi in una dimensione più eh più non solo spaziale ma anche temporale più lontana su altri pianeti eh costituisce appunto un l'ambiente l'ambiente complessivo sul quale fare certi ragionamenti peraltro devo dire che una delle risultanze particolarmente importanti io penso per tutta la comunità scientifica ma anche per per l'Italia sia come comunità scientifica che industriale e che nella ministeriale appunto negli ultimi due giorni si è trovata la quadra per poter riproporre nei prossimi anni la missione ExoMars ventidue che purtroppo per i noti motivi eh non è non è non è partita non è partita come doveva lo scorso settembre e allora quindi capiamo anche che c'è una dimensione oltre che tecnologica anche di evoluzioni di modelli sia scientifici ma anche economici ed industriali c'è una platea di attori che cresce quindi ci sono un certo un numero di paesi molto superiori che si affacciano a degli sviluppi tecnologici in questo contesto c'è una 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 di esplorazione e quindi la necessità di costruire infrastrutture che come ho appena detto va dall'orbita terra l'orbita bassa terrestre fino alla luna e i pianeti più lontani e infine ci sono modelli anche non solo di investimento pubblico ma anche privati che si stanno affacciando non a caso il contributo ad esempio di SpaceX per la costruzione del primo land del lunare è un contributo economico che è stato fondamentale per la NASA per poter cantierare questa prima questo sviluppo diciamo di una nuova famiglia di lander lunari cosa sulla quale speriamo di essere in corsa anche per i successivi modelli e allora l'ho già detto diciamo abbiamo questi tre ambiti l'orbita bassa terrestre la luna ritorno sulla luna che sarà diciamo per far operare l'uomo e gli astronauti in modo permanente e infine l'esplorazione planetaria e questo devo dire diciamo che ecco riferendomi appunto al ruolo dell'Italia viene da una tradizione lunga vedete l'immagine della International Space Station sappiamo tutti che più del 50% del volume pressurizzato è stato costruito in Italia a Torino in modo particolare con la nostra tecnologia dei moduli pressurizzati oggi questo ci consente di essere l'attore principale della costruzione del gateway quindi della prima stazione in orbita cislunare e di poter giocare un ruolo molto importante nella costruzione delle cosiddette stazioni spaziali commerciali ovvero infrastrutture che vengono costruite non perché c'è un finanziamento unicamente pubblico di un'agenzia spaziale ma vengono costituite vengono costruite sulla base di fondi privati che naturalmente immaginano un ritorno di questo investimento dall'utilizzo di quella infrastruttura per scopi per scopi commerciali scopi commerciali che sono chiaramente legati a a come l'operare in quel contesto di microgravità possa essere particolarmente importante per settori industriali quali non so il big pharma piuttosto che i nuovi materiali piuttosto che il il la stampa in 3D perché no anche di materiale organico allora vedete che c'è una e non a caso non a caso i primi moduli della prima stazione spaziale commerciale al mondo che è stata che è in via di realizzazione dall'azienda statunitense Axium non a caso sono costruiti proprio a Torino a conferma del nostro ruolo di leadership e naturalmente questo poi sarà l'elemento che ci consentirà vedremo tra quanti anni ma certamente è una è una prospettiva che abbiamo e che tecnologicamente ha grandi sfide ma è anche non è fantascienza efficienza la possibilità di avere dei primi outpost permanenti innanzitutto sulla sulla luna e quindi questo secondo me contestualizza contestualizza un po' anche diciamo la rilevanza e il l'orizzonte temporale di come certi sviluppi tecnologici devono entreranno e sosterranno questa questa visione se ehm se ci focalizziamo un attimo sull'orbita bassa terrestre allora abbiamo detto negli ultimi vent'anni abbiamo imparato ad operare all'interno della stazione spaziale internazionale il post ISS ricordo che eh diciamo il ciclo di vita della stazione dovrebbe portarla all'uscita dalla vita operativa nel duemilatrenta e quindi si stanno immaginando anche le le agenzie spaziali in primis NASA sta immaginando che gli eventuali eh diciamo ambiti scientifici nel post ISS possono essere gestiti as a service rispetto alle stazioni spaziali commerciali quindi quello è un primo ambito secondo ambito la capacità di orbitare attorno alla terra e quindi ancora in regime di microgravità o di gravità ridotta con navette automatizzate che poi possono tornare eh su sulla terra e qui ancora c'è un progetto flagship dell'Agenzia Spaziale Europea che per il settanta per cento è finanziato dall'Italia lo Space Rider che stiamo fisicamente costruendo in eh poprà in contractorship tra tale Salina Space Italia ed Avio che dovrebbe vedere il primo volo nel duemilaventiquattro concepito per essere alcune settimane in orbita tornare sulla terra e quindi diciamo essere un elemento di quella che che è una capacità di costruzione o comunque di manipolazione in orbita e infine il contesto l'ambito molto ampio sul quale poi spenderò qualche parola del OOS dell'on orbit servicing o in orbit servicing che sostanzialmente è legato alla costruzione di infrastrutture in orbita perché no a eh sostenere servizi ad esempio per il prolungamento del ciclo di vita in orbita degli assetti ad esempio attraverso un'azione di refueling quindi di rifornimento in orbita di un satellite sappiamo che questo è uno degli elementi che più critici per la vita del satellite tipicamente non muore perché muore elettronica ma muore perché finisce finisce il carburante e a proposito di sostenibilità non solo della terra ma anche dell'ambiente spaziale in quanto tale il debris l'active debris removal quindi cominciare a porci in modo attivo nel ripulire porzioni di orbita che cominciano a essere eh congestionate questo per dare qualche elemento di dove certe 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 tecnologie poi andranno andranno a costituire un elemento un elemento essenziale sapendo che già oggi diciamo abbiamo noi una capacità di fatemi dire di assemblare in orbita chiaramente non a livello dei particolari o dei microparticolari ma di assemblare infrastrutture e quindi qui vedete due immagini di un qualcosa che è un cargo spaziale che ne stiamo producendo il ventunonesimo modello il Cinius che è sostanzialmente diciamo un un pezzo che viene assemblato automaticamente sulla stazione spaziale porta generi di conforto materiali e sperimenti scientifici e riporta giù poi diciamo eh disperdendosi nel 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 barmin e rientro nell'atmosfera eh materiale eh materiale eh diciamo tolto dalla stazione dalla stazione spaziale e anche e e questo naturalmente e qui do una prima un primo elemento diciamo operare attorno alla Terra è comunque è stato chiamato anche prima da Erasmus è comunque diciamo operare in un ambiente fatemi dire ostile perché non abbiamo non abbiamo diciamo eh la facilità di operare che abbiamo sulla Terra abbiamo delle condizioni diverse possiamo concepire delle cose diverse però sarà anche un laboratorio per poi trasportare successivamente queste capacità ad esempio di in orbit servicing che che nei prossimi anni sperimenteremo attorno alla Terra nell'orbita bassa terrestre rendere disponibili per costruire le infrastrutture in un ambiente diverso come quello lunare dove diciamo l'idea non è quella di tornare attraverso le missioni Artemis per una missione breve ma di tornare per poter lavorare sul pianeta capire come poter costruire sul pianeta delle infrastrutture non necessariamente lanciandole come manufatto finito da Terra e infine come sfruttare anche le risorse le risorse presenti sul pianeta chiaramente in questa visione la costruzione l'assemblaggio del gateway lunare una sorta di outpost logistica attorno alla Luna è fondamentale fondamentale per poter supportare missioni che non vanno necessariamente Terra-Luna ma possono andare anche Gateway-Luna Luna-Gateway Luna-Terra e qui non è non è diciamo sciovinismo nazionale però effettivamente vedete le bandierine italiane per sottolineare quanto nella costruzione del gateway ci sia tanta Italia quanto soprattutto in questo momento diciamo la maggior parte delle attività di costruzione certamente dei moduli pressurizzati vede proprio l'Italia come primo come primo attore e naturalmente questo diciamo in prospettiva che ripeto può apparire può apparire diciamo un po' immaginifica forse anche affascinante ma semplicemente una suggestione beh non lo è perché vedete a destra tutti i blocchettini di base come se fosse un lego spaziale i blocchi di base che dovremmo assemblare non necessariamente assemblare a terra per consentire il fatto di poter generare un outpost lunare permanente quindi degli scelter ovvero dei luoghi dove gli astronauti naturalmente con tutta la tematica delle radiazioni possono possono operare in struttura pressurizzata e non fuori del pianeta i lander i rover per la mobilità i laboratori scientifici perché poi c'è un laboratorio scientifici pressurizzati perché poi naturalmente operare su quel pianeta significherà capire anche molte cose eh molte cose ancora del del della vita possibile diciamo in quel in quel in quel contesto e naturalmente in questa in questa visione saranno molteplici le infrastrutture che potremo essere chiamati a costruire il loco una 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 su tutta ad esempio la possibilità perché no di poter eh poter crescere sul sul pianeta anche qui in 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 serre in serre pressurizzate eh quello che serve che servirà al sostentamento degli uomini e degli astronauti allora eh tornando a a quelle tecnologie che devono servirci a manipolare e a costruire oggetti in orbita io segnalo questi 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 tre ambiti l'OS del quale adesso il quale adesso spando qualche parola già detto lo space rider quindi comunque la capacità unmanned eh unmanned di operare nell'orbita bassa con velivoli che poi possono essere eh una sorta di 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 shuttle nel senso una sorta di eh velivolo con capacità di rientro a terra che però può portare e può operare in quel contesto e perché no una suggestione più lontana la capacità eh automatizzata di di macchine assemblate anche in orbita ad esempio di poter eh di poter approcciare e lavorare eh su asteroidi per una un elemento fondamentale che è quello dell'utilizzo dei 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 minerali e delle e delle delle risorse degli asteroidi e allora nell'abbassarci un attimo rispetto a questa visione quindi nel capire quali sono i i building block di questo contesto ecco qui richiamo un lavoro che naturalmente partendo dal nostro ruolo su space rider insieme con avio abbiamo immaginato e che mette insieme l'accesso allo spazio quindi la capacità di lancio tutta l'architettura orbitale che tra sistemi propulsivi e sistemi di servizio consente poi di operare in quel contesto e o con navetta come vedete nella parte sinistra della slide o con moduli di servizio che abilitano i vari pezzi di quello che ho detto l'onorbi service in guida un modulo di servizio un modulo di servizio che abilita l'assemblaggio e la mangiatura orbitale un modulo di servizio e magari anche una una navetta come space rider che possa consentire il rientro eh il rientro di materiale attraverso la sua la sua cargo bay allora su questo diciamo noi ci siamo mossi questo a livello dell'azienda tutta ci siamo mossi naturalmente nell'andare a capire nei vari contesti agenzia spaziale europea eh agenzie spaziali nazionali e poi darò un flash rapidissimo su quello che stiamo che ci accingiamo a proporre sul PNRR dove c'è una parte dedicata proprio all'inorbi service e commissione europea sviluppi tecnologici abilitanti e dimostrazione in orbita e qui do un po' la proiezione eh diciamo noi siamo stati selezionati alla commissione europea per il cosiddetto progetto Eros IOD quindi European Robotic Orbital Support Services in Orbit Demonstration che è partito con una fase AB1 nel nel duemilaventidue ed avendo vedete i vari pezzi eh diciamo che dobbiamo dimostrare il capture il rendezvous il capture il docking il refueling le la possibilità di cambiare in orbita payload le docking capabilities l'on orbit assembly manufacturing bene questo dovrebbe portarci nel duemilaventisei ad avere una dimostrazione in orbita di come tutte queste tecnologie eh ci consentono poi di eh sviluppare le operazioni fondamentali delle quali stiamo sulle quali stiamo ragionando che è ripeto la possibilità di agganciare e di fare delle operazioni su asset in orbita magari commerciali ma anche di costruire fisicamente infrastrutture e allora dedico nella nell'andare a concludere dedico un attimo diciamo non non mi sono dilungato di più perché eh appunto eh sottoporremo assieme a tutta una serie di partner Avio Avio ma anche una una filiera eh di piccole e medie imprese molto 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 vasta eh questi sono gli ambiti sul quale eh il PNRR nella parte di Norbit Servicing ehm chiede di sviluppare dimostrazioni in orbita anche questa nel duemilaventisei il deorbiting di un satellite o di debris quindi una dinamica di active debris removal la relocation e la life extension di un satellite il refueling il repair e refurbishment e eh ultimo non da ultimo ma non da ultimo come importanza ma l'in orbit Assembl allora mi piace chiudere con è stato richiamato è stato richiamato prima mi piace chiudere con un paio di slide che uno eh diciamo naturalmente quello che vediamo è se se vogliamo un po' il vertice di una capacità architetturale ingegneristica e sistemistica di poter costruire infrastrutture dalla terra lanciate in orbita bassa e poi verso luna in pianeti lontani ma anche per costruirle in orbita è una capacità architetturale sistemica che naturalmente il nostro unico obiettivo è di mantenerla e svilupparla e di svilupparla è una capacità che l'azienda ha in Italia e quindi diciamo la capacità del paese che però è anche una capacità e lo dico e mi fa piacere dirlo soprattutto in collegamento da Roma ma in un evento che facciamo a Torino la presidente Quagliotti lo sa benissimo lo sa benissimo anche la presidente o i presidenti non so come se devo usare la o i presidenti quindi sia del cluster nazionale che del distretto quanto abbiamo tenuto e quanto tengo personalmente al fatto che ci sia un'intensità di sviluppo tecnologico anche sulla nostra ricca filiera di piccole e medie imprese devo dire come ho sempre detto che il Piemonte il distretto dello spaziale piemontese e comunque tutte le istituzioni locali hanno consentito che da questa in questo ambito fosse fosse una best practice la cooperazione tra noi le piccole e medie perché se oggi un modulo pressurizzato a circa l'ottantacinque per cento di filiera italiana e a tantissima filiera territoriale è dovuto anche a questo lavoro lungo vent'anni come direbbero coloro che parlano bene da tripla elica quindi di cooperazione tra l'impresa l'istituzione e i centri di formazione naturalmente l'università e il Politecnico allora dico questo perché questi sono gli ambiti dove oggi stiamo stimolando e sviluppando il lavoro con la filiera di partnership per vera e propria naturalmente per poter concepire e costruire infrastrutture e anche assemiarle assemiarle in orbita abbiamo bisogno di tecnologie e sistemi termomeccanici tecnologie e sistemi naturalmente per l'avionica per la componente energetica per la generazione di power in orbita elettronica robotica intelligenza artificiale molto software compreso diciamo software che poi ci porta verso una gestione sempre più automatizzata e perché no sostenuta dall'intelligenza artificiale e infine temi che possono apparire più soft e meno tecnologici ma in realtà sono fondamentali in una proiezione lunga che è quello dell'abitabilità quindi perché no rendere da una parte più confortevoli ambienti su quali l'uomo dovrà operare e dovrà vivere lontano dalla terra e infine renderli diciamo maneggiabili in un modo che consenta proprio una 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 migliore una migliore una migliore diciamo capacità di di costruire di costruire in orbita e allora chiudo in modo un po' scherzoso ma alla fine mica tanto perché purtroppo non c'è l'animazione perché non sono riuscito a metterlo in animazione quindi vedete solo la parte finale allora diciamo prendendo una scritta che è sul Colosseo Quadrato a Roma siamo un popolo di poeti artisti eroi santi pensatori scienziati navigatori trasmigatori ma anche di spaziali grazie 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 molto Massimo della tua presentazione che veramente ci ha fatto anche sognare oltre che a pensare alle attività alle molte attività che sono sul campo io considerando che so che poi devi andare via chiederei alla platea o anche a chi è distante se vuole fare una domanda vuole farti una domanda un commento se non c'è nessuno ah sì prego non so se ti sento no io non sento sento molto bene te ma non sento le domande sì buongiorno Girelli della Labor Med 2 di Torino eh Tommaso Ghidini eh penso conosca chi è ha scritto un libro Homo Celesticus in cui la sua visione è esattamente quella che lei ha illustrato quindi eh penso che ci siano parecchie personalità importanti che stanno andando con lo stesso eh mindset verso quello che ha illustrato solo questo solo un commento ma diciamo io penso che che questa sia una un ambito delle attività spaziali eh diciamo che eh che ci fa confrontare come c'è molta tecnologia dietro ma la tecnologia diciamo che va a sostegno di una visione che forse va al di là eh delle singole realizzazioni che probabilmente almeno nella mia esperienza è il connubio più importante per rendere tutto questo affascinante che non è semplicemente una una affermazione romantica ma se è affascinante eh diciamo è anche utile per poter far comprendere a una platea più ampia che non sia quella diciamo ad esempio riunita oggi di noi di una comunità tecnologica scientifica accademica ma in una una platea più ampia che poi è quella che deve sostenere del fatto che investire in tecnologie in tecnologie spaziali non è semplicemente un utilizzo eh di soldi per fare cose strane ma effettivamente è un qualcosa le cui rigatute sulla terra sono incredibili e e e che poi eh diciamo eh consentono di vivere meglio anche qui in un pianeta più sostenibile quindi penso che questo dominio affascinante ma serva anche a questo a far comprendere a una platea più ampia che non siamo solo tecnologi o anche un po' scienziati che che utilizzano risorse eh così per far cose e magari potrebbero essere utilizzate più proficuamente sulla terra ma effettivamente tutto questo cioè imparare ad operare in un contesto lontano imparare a ad essere sostenibili in quel contesto perché non potremo portare tutto dalla terra è un elemento fondamentale proprio per la terra stessa ma infatti nel libro di Ghidini si parla proprio dell'opportunità data alle nuove generazioni che poi è uno dei focus più importanti nella sostenibilità di tutte le azioni che vengono fatte in questo settore bene grazie ancora Massimo mi viene l'idea di farti ancora una richiesta se tu dovessi dare vorresti avere due risposte eh a breve dal mondo accademico non so se hai avuto modo di sentire quello che ha detto ma due aree che ti piacerebbe fossero eh completate a breve a supporto delle tue attività della tua azienda ma diciamo eh Erasmo ha citato il partenato esteso dello spazio eh che a mio giudizio eh sarà con tutte le complessità di far partire questi grandi progetti sarà comunque eh un ambito importante sul quale eh focalizzare diciamo ricerche tecnologiche o comunque sviluppi a basso TRL che poi possono però avere come dicono con una parola un po' brutta ma insomma che rende il concetto possono essere missionizzabili quindi essere portate portate diciamo nei contesti che ho richiamato eh nei prossimi nei prossimi anni allora beh chiaramente ci sono due due aree una più legata ai materiali beh certamente ehm prendiamo un modulo pressurizzato un modulo pressurizzato è comunque porta tonnellate di roba ed è una struttura da tonnellate bene lavorare su tutti quei materiali che consentiranno diciamo eh conservando le le caratteristiche fondamentali che devono avere ad esempio eh l'ambiente pressurizzato ad esempio capire come utilizzando anche il materiale in loco avere un appropriato schermo alle radiazioni però diciamo alleggerire quindi con 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 fibre che consentano di in prospettiva eh di contribuire alla costruzione di qualcosa che oggi è sostanzialmente un involucro metallico beh penso che questo sia un elemento molto importante di collegamento con la scienza dei materiali l'altro inevitabilmente dico spesso non ho avuto il tempo qui in questa relazione però io penso che l'esplorazione l'operare in orbita e più in genere l'esplorazione sia un contesto dove vedremo la cooperazione uomo macchina particolarmente spinta e quindi necessariamente avremo un certo numero di astronauti che ad esempio opereranno sul pianeta luna oppure opereranno in orbita terrestre ma questi per far delle cose e per farele su una scala più ampia di quella che attualmente possiamo immaginare dovranno collaborare con macchine magari con macchine intelligenti e via via con capacità superiori cognitive quindi penso che il gli sviluppi di intelligenza artificiale legata alla fisicità di manipolare oggetti e di costruirli che penso sia un oggetto oggetto anche appunto delle riflessioni di oggi beh penso che questo sia anche il grande ambito sia anche il grande ambito che ci collega con un altro riflessione ovvero l'avete citato prima e poi nel pomeriggio so che c'è tutta la parte di Digital Twins beh oggi il connubio di tecnologie digitali e di tutte queste tecnologie secondo me è fondamentale per costruire le infrastrutture del domani quindi digitale e tecnologie spaziali viaggeranno sempre più insieme quindi questi sono secondo me i due ambiti grandi materiali e diciamo e la capacità di manipolarli in orbita anche attraverso intelligenza artificiale bene grazie ancora grazie veramente ciao Massimo a presto ciao buona giornata bene non farò più domande così non perdiamo il tempo ulteriore però questo proprio mi veria da fare grazie ancora quindi quindi